Il mio nome è Peter Pichler, sono uno dei soci fondatori di Peter Pichler Architecture. Lo studio è stato fondato nel 2015, assieme a mia moglie e a Silvano Rodinas. Penso che se parliamo di sostenibilità, a noi come studio è molto molto importante capire la cultura di un posto, capire la storia, capire l'architettura permacolare del posto. Penso che tutti i nostri design, la nostra architettura si ispira anche al passato, in tale senso di non soltanto utilizzare materiali locali, ma penso anche di utilizzare tecniche che si utilizzavano una volta, dove non c'erano queste possibilità di macchine che abbiamo oggi. Dall'aria condizionata fino ai soffitti radianti, che una volta non c'erano, quindi si deve fare o rimettarsi come qualcosa di più semplice. Questo secondo me è la cosa che ci interessa molto nei nostri progetti.